Il referendum irlandese è una sconfitta per l'umanità. Tre giorni dopo il voto che in Irlanda, con il 62% dei sì, ha legalizzato le nozze gay, il cardinale Pietro Parolin si è detto triste per il risultato che sancisce, queste le sue parole, una sconfitta non soltanto dei principi cristiani, ma dell'umanità. Il segretario di Stato Vaticano ha ribadito che la Chiesa non può cedere su certi principi. La famiglia, che in questi giorni è al centro dei lavori del Sinodo dei Vescovi, va tutelata e promossa, ha detto il segretario di Stato Vaticano e primo collaboratore del Papa. Cosa dobbiamo correggere e migliorare nel dialogo con la cultura occidentale è quanto si chiede il presidente dei Vescovi Bagnasco, commentando il voto di Irlanda. Promuovere il confronto quindi, ma senza rinunciare alle posizioni della Chiesa, che afferma il pieno rispetto della dignità di ciascuno contro ogni discriminazione, ma rifiuta di equiparare unioni omosessuali a quelle della famiglia, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Intanto, un sondaggio del quotidiano La Stampa, dopo il caso irlandese, fotografa un moderato riformismo della nostra società. Due italiani su tre vorrebbero modificare la legge vigente, ma solo uno su due si dice favorevole ai matrimoni gay e solo uno su quattro ammetterebbe l'adozione per coppie omosessuali. Sul fronte politico sta prendendo forma un'alleanza bipartisan, per ora a distanza e senza nessun patto scritto, tra il ministro Boschi e Mara Carfagna, entrambe determinate a fare passare una legge sulle unioni civili e matrimoni gay.